Cos'è un monogramma? È una sintesi efficace, un simbolo per spiegare un pensiero, raccontare una storia. Parola di Marco Testa, un personaggio che conosce tutti i segreti della comunicazione e della pubblicità. Un concetto sviluppato dagli strateghi di Lancia per sdoganare una nuova elegante Y, per l'appunto battezzata monogramma. In questo caso, la lettera Y, attraverso una ripetizione geometrica, diventa un monogramma che crea dettagli di stile sempre diversi sulla livrea Golden Noir. Il pattern, applicato sul montante anteriore, dà vita a un collegamento in degradé tra l'elegante nero del tetto e il prezioso oro della carrozzeria. All'interno il logo Y, ricamato sui poggiatesta, il climatizzatore, il volante in pelle, la DAB radio, per avere una qualità del suono superiore, uniscono tecnologia a comfort e a stile. Y Monogram costa 11.300 euro a chi sceglie il finanziamento FCA Bank. Grazie a tutti. Grazie a tutti.